Musica Ciao a tutti, siamo Angela Bianca e Castruming Quartet, formazione di musica etno-popolare con sede a Soveria Mannelli, città di cultura, innovazione e tradizione. Proprio innovazione e tradizione sono la nostra mission, unendo la passione per le tradizioni popolari ad una macchina mediatica unica nel suo genere, curata da Antonia Abruzzese, che dà popolarità e promozione ad ogni evento e dalle località che ci ospitano anche fuori dall'Italia. Io sono Angela Bianca e sono la voce e la danzatrice della band. Mi accompagnano in questa travolgente esperienza a Fabio Malomo alla cassa dei tamburelli, Giuseppe Mazzotta alle percussioni etniche, Gabriele Perrelli fisarmonica e pianoforte e Carmine Mazzotta a voce e chitarra. Proponiamo uno spettacolo coinvolgente all'insegno del divertimento e della buona musica tradizionale calabrese, in un format studiato apposta per le piccole location e alla portata di tutti. Una soluzione richiestissima in questo periodo. Questa sera siamo a Fitili di Pargheria in occasione della festa di paese organizzata durante i festeggiamenti in onore di San Girolamo. Ringraziamo gli organizzatori di questa bellissima serata, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Landro, l'assessore allo sport, turismo e spettacolo Tommaso Belvedere, il parroco Don Giuseppe Florio, il prologo col presidente Cristina Anello, il comitato festa per averci voluto pure appunto qui stasera. Ringraziamo anche le forze dell'ordine, la protezione civile, la Croce Rossa e tutto lo staff organizzativo. La ditta Giuseppe Macrillò per la consulenza negli apparati audio-luci, la web tv, Liberi TV, che ci segue durante la nostra tournée, ma soprattutto cura tutti le nostre esibizioni. Grazie. Grazie.